ma adesso vorrei farlo in verso attenta me lo so, ho scritto un 10 sotto che mi hanno rottura no no, basta nascondere non si vede neanche 10 eccolo Vado fuori, vi riprendo mentre è... Tanti auguri a te! Ha visto che c'era la cannella? Tanti auguri a te! Hai visto? Tanti auguri Alessandro! Tanti auguri a te! Tanti auguri! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te!